Sono già incazzato io Perché so già che Eliezer non andrà giù mai C'ha i personaggi buggati E mi fa caccare Tra l'altro stavo notando anche un altro problema Non mi si alzano le barre dell'audio Su OBS Mi si alza solo la chat Cioè voi Magari ce li hai mutati no? No no Voi e il desktop E quello si deve alzare l'altro Microfono no Musica non l'ho Quindi non ti si alza solo il microfono Praticamente No e neanche il desktop mi si alzavano Perché effettivamente non c'erano suoni La musica si alza C'è il microfono quindi C'è predefinito Perché cazzo Ma che ne so io l'avevo messo il mio Non è che l'ho messo io predefinito L'abbiamo fatto assieme No l'orgio non è ancora Dovrebbe arrivargli questo mese Forse Di cosa? La macchina mi può passare Siamo esattamente a un anno e un mese Che l'ha preordinata Ma non è vero che ti arriva Non esistono più le macchine Gli hanno detto Un circa Grazie Dedo Grazie Dedo Positivo collegato non è disponibile Gli hanno detto Due o tre settimane fa Che la stanno caricando Sul treno dalla Germania Siccome devono riempire tutto il treno E no perché devono riempire tutto il treno No devono riempire anche arrivare il treno Prima Poi deve arrivare a Verona A Verona devono rismistarlo E poi farlo arrivare qua Quindi voglio No gli sono caduti Gli sono caduti i capelli Sto diventato pelato come me Anche io non li ho mai tagliati In realtà Ma che si frangi Ma l'ha rimandata qualcuno di voi? L'ho rimandata io L'ho rimandata io Non capivo Quante volte l'hai rimandata? Scusa Cosa ho fatto? Tre volte Quante la stai mandando? Sono fermo Ancora Marco smettila Ma sei il ballato? Marco Moro te io ti do un pugno Mi avviso Vengo lì a Urbino E distruggo il paese E ti ammazzo Te lo dico Oh vedi Questo è nomad Anche nomad è rimandato Ancora? Finito Vabbè Finito ragazzi Finalmente Non ero io Si era buggato No no si era buggato Magari probabilmente aveva accumulato Quelli di prima No ma se vuoi recuperare No cos'era detto Se vuoi recuperare Farci le altre 15 Perché a me sono state mandate 15 No che poi ripartono 68 volte Anche quelle Vector preparati No ragazzi Stasera non c'è la Battle Royale No non è la Battle Royale Sto mese Posso usare il treno Marco Certo Posso comunque usarlo io Ma No no sarà la Battle Royale Vector Volevo dire Preparati eh A fare Come a fare cosa Le bets Le bets Qui siamo in 4 Se Luke arriva Che ha detto Stava mangiando E Dov'è Arrivato? Fai le bets su 4 Si Su 4 Ora sei avvisato Preparato Mi è arrivato un messaggio Aspettate OnePlus parts Lorenzo Batterione Usarimento Ma come fa a saperlo Sono dentro la macchina Come vogliamo fare tra l'altro 2v2 L'altra volta aveva fatto io Luke Contro voi No facciamo tutti contro tutti No facciamo tutti 2v2 Facciamo Ma no più bene Ci sono le 4 bets Almeno farò lo sfruttiamo Ci sta a fare una Che tutti contro tutti Eh Si Corvo non gioca No non ha mai Non ha mai giocato Non credo a me No non è il gioco Oracolo vero A mio padre E al padre Di Liedere Doveva carco Avete problemi Anche voi Secondo me L'orgio Che non è vero niente Non dar retta all'orgio Davide purtroppo Il cazzaro degli oraculi Vediamo Liberati dal passato Devi cambiare Mi spiace Ma anche mio fratello L'ha presa Lui gli hanno detto Che dovrebbe arrivare Ad agosto Vedremo Anche io l'ho presa Vediamo la macchina E ti arriva? Eh Tra un anno Ah Vedi Vabbè magari Se la prendi usata Ce l'hai subito Ovviamente Ma infatti Bravo Hai fatto bene Ah amici Fatemi aprire questo gioco Di Kuma Sì anche perché Se come al solito Ci mette qui Esatto Mezzoretta Non devo impostare Nessuna Ed è Liedere Che deve fare la partita A sto giro Quindi Vabbè ovviamente Se facciamo i 2v2 Io sto o con Moro Con Luke Perché Liedere ormai È il mio nemico A Cerro L'altra volta chi eravamo? Eravamo Io contro te Luke Sì Intanto abbiamo vinto Io e Luke Dopo tipo 58 minuti di match Una cosa del genere Quella che non è crashata Quella che non è crashata Esatto Vatti musica Che mi fai male Grazie Salsa di soia Amici Mi raccomando Controllate se dovete fare Il rinnovo dell'abbonamento E partecipate al giveaway Di stangheni Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a Grazie E grazie a Latch Dann Allora Quindi facciamo 4 Fatale 4 Fai un fatale C'è già Luke Un fatale 4k Sì Avete ripassato il cacchio di comandi Per prendere le cose Ma tanto non funzionano Anche giusti Ma poi tanto te li scordi Ogni volta Non importa Ma non era Marche e Moro Contro gli Ezra e Luke L'ultima volta Facciamo il full count anywhere No no L'ultima volta Ah forse sì Forse abbiamo vinto io e te Moro No io ero con Moro Sono sicurissimo E il full count anywhere No io ero con Luke No Quando io ho preso la cintura Sì ero con Luke L'ultima volta Eravamo io e te Moro Sì sì No ero con Luke Mi ricordo che mi hai cazzato con Luke Che Luke alla fine Ti ha lasciato fare Anziché Buttarti giù dalla scala Ma non l'ho preso io comunque Poi la cintura L'avevo preso a Moro Perché una era crashata Le 12 foto senza veli Fanno preoccupare i fan Ma quelle domani Perché hanno perso i veli No fire Non anticipare Non solo alla sera A parte che l'avevo già detta L'avevo già detta Due tre giorni qua Che imbarazzo A me potete fare così Facciamo il full count anywhere Vai vai Allora Perché c'ho l'occhiale Che mi sembra sporco Ma è pulitissimo Ma che Quello nel backstage Non credo ci sia Multiplayer Almeno in online Forse in multiplayer locale Nel backstage Non credo Andiamo a Superbore Serious No siamo tutti contro tutti Questa sera Garazzi Questo Poi vediamo Se riusciamo a farne un altro Sì Tanto speriamo di sì È vero che devo scegliere Allora scegliamo Tutti i personaggi Intorno all'85 Ma mi avete invitato No devo ancora scegliere il mio E poi Intorno all'85 Ma vediamo Io devo scaricare anche gli altri Eh vabbè Poi vediamo Qui non c'è il treno Marco Non c'è Ah minchia Però più pensa che No non mi sa che non le ho scaricato Pensa che il comunista È 76 Che segue Vabbè Mi prendo più il figlio Berluscana Che è 85 Intanto come abbiamo visto L'altra volta Avevo Saitama 99 Ero come voi Quindi non è che cambia Poi mi sa quanto Mita Siamo tutti contro tutti 1 Minchiappettare il tuo ego Non so se devi fare così 2 No Moro e Luke Non siete neanche in game Ci sono Eh merda C'è un problema adesso Ma porca Che merda c'è Amici Mi ha dato un errore Della scheda video E è cresciuto il gioco No anche me Un'altra volta Mi se l'aveva dato Poi ho dovuto cambiare Scheda video Lo sto palatinando Palatinando No No al sito No perché è troppo lungo No Marco Ti è cresciato tutto Ti è cresciato Non so È troppo lungo Da palatinare Le coste rosse Magari Con calo Allo posso fare Ma mi posso infilare No No la sto ricreando Aspetta Beh non hai detto che ci sei Omino Marco mi raccomando Vinci così Vinco i termosoldi Per fare altre mille Non so neanche se riesco a entrare L'umino della polmonita È terrificante È un insieme di dildi È un uomo fatto di dildi È terribile Non lo voglio Allora Per figlio Berluscare Con figlio Ma io non vedo le bet Perché non siamo Perché sono già fatte Sono Eh sì La fate partire vecchio Ah l'ha già fatta Grazie San Andreas Basta clicchi sotto E vedi il pronostico Tutta la vittoria Il 43% su di te Marco Eh Luke è il più Grazie per la fiducia È il più bistrattato Perché fai il pirla Luke vai in giro Cammina Non fate i bastardi Prendeteli tutti Intorno all'85 Ma tanto non Va bene Ma tanto non cambia nulla Ma Dedo Veramente Scusate Dedo Grazie mille Grazie 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 anche perché Probabilmente Quando è che abbiamo fatto Alle 12 ore E scadranno Tra qualche giorno Era il Era il Era il 12 Era domani Non c'erano state Troppe Non ci dovrebbe essere C'erano state un po' C'erano state un po' Sì L'hai crashato al Luke Ma tanto a qualcuno Aspetta che ci dobbiamo mutare Ma lo può rientrare O devi rifarla di nuovo No credo possa rientrare Sì posso reinvitarlo Speriamo Che fastidio Che non posso mettere I personaggi Di carne Sì beh comunque Tra tre giorni Avremo Tra tre giorni Tra l'altro è Sabato Non facciamo neanche live Quindi sarà veramente Un drop Incredibile da domenica Anche il treno Marco È un pippone Quanto c'ha? 75 Cercando di farli Tutti Lo stesso livello Anche era Il super sonico 75 Comunque E ha vinto Che lag ho sentito Ma ancora? La gp1 Non risponde più I comandi È probabile Che tu sia passato A un comando Non valido Marco Dai Marco Non era Doveva togliere Quella roba Che avevo tolto Anche io L'altra volta Mi sa Che mi andava Che andava tutto Di merda Velocizzato Probabilmente Sono quelle robe lì Dici? Un po' darsi Vallo a togliere lì Non mi ricordo Sicuro Che terribile Ma poi sono 75 Bastardi Beh Certo tu Non è vero Anche Marco è 75 Ma che cazzi Allora fammi vedere Dove era Cos'era Soprattutto Eh io non l'ho Modificata quella cosa Eh ma te non hai neanche Crashato Quindi boh Eh no ma io devo creare La lobby Cos'era? Bisogna andare Extra era? Eh? Extra Impostazioni grafiche Il sondaggio è già finito Da un modi Antonio Sì È fuuut Frequenza di aggiornamento Variabile era? E poi cosa c'è? No Io c'ho No altre opzioni Poi c'è qualità modelli Ombre Qualità ombre Modelli da sede Sempre sulla frequenza Frequenza di aggiornamento Variabile Frequenza di aggiornamento 59 Hz Ma non è cliccabile Allora quella variabile Era da togliere? Pare che era quella variabile Comunque un igienio massacri Quasi quasi Luke Ah è lì Sta selezionando FPS telecamera sportiva Io c'ho 30 Anche voi Boh Vabbè tanto Ma Gandhi come fai Sare un altro 3? Era da mettere sì Non mi ricordo Forse era da mettere sì Eh no Forse non Metti l'opposto Di quello che ce l'ha già Eh ma Non è detto che io sto crashando Per quello Perché io non sto vedendo velocizzato Io non riesco a entrare Luke Te lo ricordi tu? Era Ma come cazzo ti Fai a ricordare? Metti Metti il contrario Di quello che c'era Cosa è che c'era? Eh c'era no Metto sì Guarda Corvo 91 Corvo Fortissimo Anche Chad Moro Scusami Come fai a essere 75? Mi ha invitato Invitami di nuovo Vediamo Ho controllato Dei mettere sì Perfetto bambino Grazie Isabetta 85 Sì no I personaggi del termo Verso non aggiustare Effettivamente Jingle Bell 75 Lo si può vedere Era un uomo Che lottava In MMA Allora Fammi prendere Inginio Massacri Dai Da qui È uguale Comunque Porca miseria Infatti Guarda Ho cambiato idea È giusto che io Lo Lo sfrutti per bene Oh parlo Il più scarso sono Ragazzi E Moro Come al solito Quello che prende più alto Grazie vince Grazie vince Ma non contano un cazzo Tanti punteggi Non è vero niente Anche secondo me Contano Non contano niente Ha vinto Ralph Che contano un po' Ma Più che altro Guarda che schifo Che schifo tutti È bellissimo Inginio Massacri Inginio è perfetto È perfetto In game di meno Però qui è perfetto Poi Fofao Vabbè Che diarrea Cosmica Porca miseria Mamma mia Che schifo Devi fare anche l'altro Quello che hanno Cosato su Discord Come si chiama Quello lì Lungo Sì Il papero Inquietante bastardo Eh ma lui non è Del termo verso No però Me ne sbaglio Voglio comunque Modificando i valori Ci vogliono due minuti Però penso Lo debba fare il creatore Del No lo devo fare io Lo devo fare Sì però se lo fa Il creatore Chiunque lo scarica Almeno ce li ha già a posto No Devi riscaricarlo Un'altra copia Di nuovo No dico Chi lo fa la prima volta Ce la ducca Sì quello lì Sì se lo fate già Ah ecco Cioè mancavano un po' di robe Parte così Senza ingressi Mi ricordo già Più i tasti O raga Tutte volte mi pare Ci fossero stati Ehi ehi Devo riprendermi Un attimo Questo match È appena partito Ma noi non ci facciamo Sapare Ma dai perché io Fofao non ce l'ho È tutto lucido Da me che schifo Ma io vedo Scattare di brutto Adesso va quasi All'entatore Che bestia Ma perché ogni giorno Che passa peggio Anzi che migliorare Noi non ho fatto niente Ma che male Ma fatti i cazzi tuoi Marco Ah io Ah io Ma io sono Sto veramente andando a A 30 premi Mi stavo molto Alla stai Quale' Oh 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 My Mh Ma sì Quando hai saltato Oh Oh Bullismo Oh Intanto A me Faccio Un Bitcoin Robin Oh Robin una 야 Ehi Eh Sì, Jingle Bell fortissimo Si è allenato per anni contro i migliori atleti Dell'MMA E addirittura Un infame bastardo E poi tanto è inutile prendere i personaggi Forti, poco forti A me non funziona la Y Da ogni volta che gioco Io sono palesemente non fluido comunque ragazzi Ci provo Ecco si è bloccato completamente Si è bloccato tutto Però il pubblico no però Sentativo di riconnessione in corso Ottimo Oggi sempre meglio Mi sa che stanno chiudendo i server perché Oh porca miseria Marco ha lasciato il Yook No era Marco da me che ha lasciato Marco? Io sto giocando No da me dice che ha lasciato il Yook Cioè me l'ha detto il Yook che ha lasciato Adesso non è che mi ho menato Ma non è che dovete mettermi tutti e tre Quindi il Yook è un bot Eh ma ripartiamo Scusami E' andato tutto di merda E' andato Perché stavo vincendo Marco Ma pigati sto spugno Ti è Ecco il Yook Sarà lasciato un match che è uscito Adesso uscio anche io Eh non Tenete le stesse votazioni Sì sì Tieni le stesse votazioni Non è Solo che io non avrò più i pugni nelle mani come prima ragazzi Non rompere le tante Scammata Scammata Non usciare Cazzasi Aspetta che mi sa che quella roba grafica la sistemo Perché Mamma mia Fai mettere 60 frame Ok Quando vuoi Frequenza del giocamento Eh avevo 30 frame No avevo 30 frame nella telecamera sportiva ma mi stava scattando tutto Stavo giocando Ah io so 60 A 20 frame Però non credo sia quello Marco Tu non ti sei spenta la scheda video comunque Falcao Stessa cosa come prima Ok Il cui forno riprendere Fofao No no Stessi personaggi ragazzi Oh Mi è arrivato un messaggio su Steam Lo vado a leggere Ah Come 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 le vedo le impostazioni della lobby Ok Goal Grazie The Matrix Ah Ok Aspetta allora Aspetta un attimo Eh sei uscito Sì Ah grazie Perché Non sto facendo niente io ragazzi cosa succede Perché sei uscito Lieza Perché mi ha detto infatti entrate sì ok Faccio alt F4 ragazzi Ho messo le entrate Un secondo eh Probabilmente Niente I primi 20 minuti vanno per organizzarsi Grazie Anche per un match normale Non è possibile questa cosa comunque Io voglio Possiamo fare solo le battle royale Oh no adesso sta sincronizzando i salvataggi Tutto Esco di nuovo Ho aperto photoshop per sbaglio Grazie Mondix Eh ragazzi Purtroppo quando i giochi sono fatti male Non ci possiamo fare niente No Con le battle royale è tutto a posto Perché tanto in single player È tutto a posto più o meno Però oh Eh il del ring C'ha dei bug che lo rendono ingiocabile Oh Fatemi riaprire questa gagata No non ho provato a staccarlo Di attaccarlo Anche perché col pad In wireless I tasti sono diversi E quindi devo attaccarlo per forza col cavo Come nel 1999 Io il cavo lo voglio sempre Sì va bene Marco Sempre Non voglio casini A parte che c'è lo stesso Perché c'ho il cavo del 67 E mi si è sfilacciato Devo cambiarlo Però Allora Fammi infilare il pene In questa partita Di Sganz Matteo Ganzo No Marco Ti sento due volte Questo eco Mi devi buttare tu Eh ma sono in caricamento Aspetta Matteo Renzi Allora Matteo Renzi Figorenzi Dov'è Iginio Eccolo Buongiorno Dove trovo le nuove live Di TTT Collino Ad esempio Tutte su YouTube Sono tutte su YouTube Sono tutte su YouTube Nel canale delle live Nel canale secondario Matteo Renzi Ci sono le playlist Basta che cerchi la playlist TTT E le sono tutte lì Adesso io dovrò rivedere Fofao Che è una palla liscia Da me Di colori vari Molteplici Da settimana prossima Non lo faccio Devo ricordare Di scaricarli tutti No Per favore Una fatica Io voglio giocare E lo so Lo so Però è bellissimo Sì sì Va bene Però è una fatica Marco Facciamo Facciamo le Battle Royale Quelli sono in single player Sono in single player Ah Che bellezza In single player Non ci sono problemi Non ci sono Più o meno Più o meno Più o meno Può fare Muis Bravo Kendrick Grazie Grazie Ssssssss Nenfissimo Nenfissimo Questo zambroso From Italy Ha detto Quale tra l'altro Ma come Ralph Non è vero Come Ralph Non ha chiamato Bear Louis Scusa Non so che lui Io ho sentito Ralph No Non mi fare Con il form Dello sponsor Un effetto speciale E stando a dio Gli sponsor qua Tra l'altro Eccoci qua Mi bausenta Secondo ingreso Eccolo L'uomo più quadrato Della geometria Umana 71 pound Quanti chili sono Marco Boh Se tambo su questo gioco Mi si formata Automaticamente Eccolo Eccolo Tu Ho chiesto a te Ho chiesto Eh ma io C'ho il telefono Di caotta Perché si sono andati In piedi Guardandolo male Dietro Attenzione Perché lui È un hill Ma adesso Si gira Di spagna Adesso vedo fluido Credo tu abbia perso Ah 271 pounds Ah ecco Mi c'è andato Leggerissima Porca miseria Si vede Il cerchietto Di caricamento Del cursore In basso Al centro Ragazzi Eh Dai Attenzione Chi entra Fofao L'uomo lucido Per me Ma anche qui Lo vedrai lucido Eh mi sale proprio Di sì Ma non entra Si è imbarazzato Ah no Eginio Massacri Cosa fa con le corna Col suo travestimento Ma cosa fa Eginio Ma cosa fa Eginio Eginio Non si fa Eginio Ma no Ragazzi Fa suca suca Non fai È di New York Guarda che fa Suca suca Volante Ti dice di andare Dalla sua marisa Che fa del Piero Ha già visto Biglien Fa Minimolo Ma cosa che uomo Guarda guarda Ehi Cosa fa Diculino Movimento Piero Cosa sono Ai fuochi Aspetta Aspetta Che ci cuoce La torta Guarda che taglia Tutta la julienne Olè 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 Ma perché Ma è terrifica È cringissimo Una cosa del genere Me la sto immaginando Come se la facesse Eginio Per davvero Guarda qua Lì Questo vecchio Di merda No Adesso vuoi massare Eh ma se hai fatto Un sì Scusami Eh Ma non Fizzle Perché è diventato Giappone Oh ma cos'è St'attesa C'è la musica Bella Perché non la sento No ma lo vedo Anch'io Che è fatto Di cacchaburro Ma che schifo È un caccholai fungo Di Mario Sì È schifo Ma che schifo Guarda questo porro Ma perché l'hai scaricato Perché lo vedi così Ma che adesso Marco Adesso facciamoci domande Su il perché Ci sono i problemi In questo gioco Dai È una castagna È una castagna Ma poi non sta respirando Sto soffocando per noi Ma poi è lucido Anche di sfarle Cos'è Esatto Lo tolto È quella Cosa mi sa Ti rompo i denti Anche se non so dove sono Ma vedrai Ma che bella musica però Io non la sento Lo tolte Mi sa Per il copy Non c'è anche castagna Ma quanto dura Lo suo ingresso Scusami Sì infatti basta Facciamo così È andato sei mesi Adesso la faccia Fofao Sì purtroppo È subito A farmi il coppino Aia Miseria Liezar Di culo Miseria Liezar Porca miseria Liezar Porca miseria No mi succa No mi succa Pirla Pirla Non volevo fare Pirla Non ha senso Farlo di Aia Quasi Bertevo il ginocchio Nella scaletta Di facciaio Stai giù Stai giù Pippo Madonna Santa Mi ha fatto una Quasi Spirits Britney Eh non sei preso Scemo Eh Eccomi qua ragazzi Gigglebell Aia Inaspettato No Aia Mi hai piantato Come un chiodino Di plastica Nelle lavagnette Quelle vecchie Ti ricordi Quelle di plastica Con i buchini Tu devi mettere i chiodini Per fare i disegnetti Quello Quello Cazzo è peggio Pia Incredibile Aia Ma non ce la faccio Aia Aia Povoriginio No ma credo Che il processo Di marca Abbia qualche problema Perché lui riesce A contrastare subito Qualunque cosa si fa E non lo so Perché Io continuo Prima i tasti giusti Ma non farò No no Luke Mi sta facendo Action Aia Non mi fai cadere Ma è che La Y Quanto pare Cioè almeno io Non la devo premere Quando viene fuori Ma prima che viene fuori E la vita E la vita Lo fai Non lo so Lieza Però purtroppo Funziona solo Quando per sbaglio Lo premo prima E adesso L'ho premuto Perfettamente Fuori dalle balle Cosa di qua È la mia finisher Aia Uccido E ma Orbido Oh basta Fatemi alzare Devo andare Dalla mia marisa Spier incredibile Aia Guarda tu Quanti qui A farmi toccare Guarda come urla Non si reversa Solo con Y Ragazzi Ma a me Mi viene fuori Ipsilon anche Cazzo dovevo prendere Quando viene fuori Ipsilon Prendevo Ipsilon Scusa Non è che mi viene fuori Iscritto Y Come si fa Ma sulle corde Come si fa A risvoltare Con gli altri tasti Scusate Qua Cioè Ha fatto una spierda Fermo Cioè Che cazzo vuol dire Sì È la sua mossa Sì Ho capito Tutto storto Aia Oh porca bestia Cosa fa a massare Cosa fa a massare Carca miseria È bettila Sono un attimo Che posso sistemare Gli azar per le braghe Questo è come sono atletico Madrid Trovo Non pensi se si gioca trollone Eh ma come Come Però Non avete detto come Oh prendi Sta sedia di merda Mamma mia Che gioco Del cazzo Ma che vedi Ha reagito subito Cioè Beh non esproniamo Sono un attimo Non ho mai fatto niente Sì ma non c'entra Il mio Ha fatto la finta Di darla sediata È pacifista Iginio Grazie per i due mesi Orso Non escono neanche i tasti Ormai Cioè che senso ha Che cazzo anche l'orifo Benvenuto Nel nostro mondo Non era così l'altra volta È sempre stato così A me no Eh ma per quello Ti lamentavamo di te Sono un toglerone Luke Ebbà Non mi fermerai Guardate Luke Ahia Maledetto luco Oh Uomo castagna Non so come chiamarlo Momento Ah Ti è Eh vabbè Ma io entro E mi cago addosso Ma sono stomaco Io non sono riuscito A dare un pugno Ancora comunque Cosa fa Luke Cosa fa Cosa fa Luke È ancora il primo match Questo Sì Luke è full Ma basta Non voglio salire Ah Come si fa A prendere la sedia Vedi che è sempre sbagliato Cosa miseria Come si fa A prendere Moro Scusami Con il Drossale sinistro Vedi che A me non funziona A me non funziona Perché l'ho buttata Guarda Dopo 20 minuti Non ha neanche funzionato Ah Ho sbagliato Lasciami stare Mario Ah porca bestia Mi sono cagato Nell'ano Ragazzi Non vedo Al Al vitro Non potete niente Contro Iginio Massacri Lui è un incassatore Professionale E per questo Se ne andrà Ma porca bestia Come incassa lui Non incassa nessuno Vedete in pasticceria Quanti incassi Mentre l'arbitro Maiale Vieni qua che scappi Codardo Poi Ah porca mignotta Oh Non è possibile Bravo Lui Pirla Utilizziamolo Aspetta Questo è 10 Sì Lalo Non ho letto Purtroppo Me lo sono perso Perca bestia Ciao Ebbene Un culo Allora Tutti che si Io Stavo per terra 6 anni Ogni volta Sono stordicchio Adesso Ah ti sei incaccato Luke Era stato proposto Il Day One Di Elder Ring Il Geo Massacri Non mi ricordo Vai a fare i bignè Te li metto nel culo I bignè Aia Aia No Te l'ho sfondata Nello sfintere Mi stringe Mi stringe Mi stringe Aia Mi butti giù Ma è come se Si è alzato In due secondi Uno di 300 kg Come ti permetti Body shaming Hai visto Visto che mossa Ragazzi Guarda che mossa Che miseria Vieni qua Brutto pirla Non ho capito Non ho capito Mi lasci Signor Oginio Oginio Chi è Oginio Chi è Oginio Pollame Chi è Oginio Pollame Ma vai a cacare Ma scemo Ma perché non riesco Puttano Ma come sono finito lì Ah ah le keppe Mi cade addosso L'uomo anziano Mirati su un attimo Che devo discutere Di due robe Vai via Sono Oginio Pollame Quanti in break Ma a cacare Avete un calcetto Di stizza Pagliabile Oh oh Impagliato Chi è qui di mossa Aspetta Liezar Che vi divido un attimo Ma poi non funziona Qui Il senchio è ballacchio Aia 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 Sono caduto Ho la gamba gigia Prendo Un asseggio No Luke Non mi romperai le palle Eh Neshiro L'altro dietro nella schiena Ho la schiena molle Cosa del magnum Che banculo Sono io Sono io Ah Oh oh Ma sei puzzo Non riesco a prendere il legno Aia Non mi accorgo Spirla Oh L'ho rimandato sopra eh L'ho diventato un calcio Bravo Ottimo 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 Marco Ma cosa è successo Ma l'ho trapassato E vai a cacare tu Eh Posso fare il gesto No Dobbio fare il gesto Del bignè Questo è come pesto Impasto la pasta Mi viene Si sieda Via Che figura di sci Oh porca miseria Guarda che non funziona Non funziona Niente Stai fermo Che lo caco Si uca Si uca Ma non è vero Ti ho preso palesemente Liezar Si uca Si uca Oh porca troia Questo bastardo Che Cosa Impienisce Liezar Impienisce Ma che scuola Come l'ha lanciato Lugo Ma Liezar Intangiz Orca bestia Liezar È uscita la bavetta No Se la prende con me Fufao Non mi avrai Sono grosso Ma cosa è successo Mi hanno sbattuto da solo Contro il tavolo Vieni qua Vieni qua No dove vai Te ne do una Eh Guarda te Ma scusami Mi hanno sbattuto da solo Contro il tavolo Cos'è successo Eh Sei andato a sbattere Contro il tavolo No Sei girato da solo E hai tirato una botta Contro il tavolo No Me lo suca suca Maia no Fufao No Me lo sbatte Eh io sono sottolito Ragazzi Qua vince Ma Ma come ha fatto Ma perché l'umore mai Ma Perché l'umore mai Eh ho capito No ma sta contando a me Don't jump counter Sta contando a me Il bastardo Ah Ok Ma è come se Maia guarda te L'ho fatto vederlo Che buca amata di pagliacci Eh vabbè ho capito Ma nell'angolino poi Non mi dà neanche Ma l'hai detto Carmelo Ma cos'è successo Pastirria Ma cosa fai Lippi Vai a fare in culo Baldracco Ma non ti permetto Le sai Aspetta che mi riprendo Che sono un po' stanchino No pirla di gomma Eh sì Come fai a fare la cagare Quanto è arrivata Ahia Ma cosa è questa macchinetta Di tritacapperi I capelli Tieni sto bignè Pagliaccio No Eh gli ha fatto male alla schiena Marco Sei contento Eh si è un po' molle Non prende la sede Ah ti siedi o no Guarda te Oh porca bestia Allora Luke Questa è la mia preda Penso alla tua Oh vai via Bastianich Aia Ma come si è ribaltato Piccolo Ezza miseria Dai miei piedi Luke Beh perché non doveva fare il giro L'arbitro Poteva contare dall'altra parte Scusa Eh prima ha contato dall'altra parte Aia Ma nelle costole Ambaldracchioso Abbiamo aspettato troppo Arbitro dalle palle Ma scusami Ma come fai A caccarmi le palle Ogni volta No Ma non funzionano Bastian Ma cosa schienate ogni volta Schienano sempre questi Sono luridi Non mi può schienare Non ho le scarpe Sono vulnerabile Aia mi spinge Non è finita Non è finita Luke Oh pirlo Ehi la mia schiena è lunga Ragazzi Si dilata Quanto mi ha stordito Scusami eh Sono stordito pure io adesso Ah Ah un dolore bestia Salame Lasciami stare Vado via Suca 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 Ma perché si è buttato Aia il culo Aia il culo Cappertà miseria Potevo anche schivarlo Ma non vedo Non vedo Non vedo Aia non vede la pupa Sono molle Luke Sono molle Sono stordito di carne Non vedo Vabbè Pezzo di palle Pezzo di palle Poi Sono Antonio Porno Buonasera Ma non mi hai neanche colpito Cosa non ti ho colpito Ciao Sono Arzio E basta Ma si ma è OP È velocissima sta Sì veramente Già non ha senso È OP sta cacchio di monso Sì Zucca Aio Eh ma scusami Ma che counter era Che poi non posso fare niente Eh ma perché c'era Liezar Ha preso Liezar No no Sì sono Un cattone Porca Eh me lo succhia Ragazzi Me lo fao Fao Eh io non ho premuto stavolta E ti ho fatto il counter Pensa che storia Fammelo sistemare Questa castagna Aia E scompagno Aia Ecco qua Alzati brutto bislacco Ah io No Ne vado Ah Ah Dai giù Ma Ma no Siamo divisi Dalle parti Parco Oh e smetti La bastardo Scusami eh Ma io spingo il pulsante Non succede niente Porca bestia Vieni qua Vieni qua No il pacco Aia il pacco Ma guarda l'arbitro come deve correre a destra E anche a manca Aspetta Nesce a far Va bene Sì no No all'ultimo Io no Oh 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 Quasi Maiala Comunque tu me le Reversi tutte Ma cos'è sta luce Asterix Mi ribalta Mi ribalta Con calma l'arbitro eh Oh non l'avevo visto No che pelo Eh non l'avevo visto Porca miseria eh Vieni qua arbitro C'ho da fare Vieni qui C'ho da fare Ma no Ma no Ma no Sì Andiamo Comunque il punteggio non vuol dire un cazzo il punteggio Perché il mio era talmente lento Che non poteva fare niente Magari davanti Non lo so come funziona Ci siamo ragazzi L'arbitro si era sudato Questo non è mai 75 Il vero atleto era l'arbitro Lui si è allenato tanto tempo Ma non c'entra un cavolo Questa è almeno 90 Ma che 90 Sai tam era 99 Mi prendevate a calcire il culo Per la reazione che ha Non possiamo cambiare personaggio A modifica Non arrendetemi Vai Vai Ragazzi Eccoci qui Allora questa volta Prendo Il giro va preso eh ragazzi Ah Altri soldi per gli oracoli E niente Stavolta me l'ha dato a me Il problema della scheda vita Devo buttarla No Filippo Ma anche Filippo non lo vedrò giusto Certo che questo gioco è di merda Che veramente Da proprio lì la scheda vita Era ovvio che avresti dovuto farlo anche te Comunque Ce l'ha dato a tutti Rifai il pronosticacchio E vedi anche i frame Rifai il pronosticacchio Rifai Nuovo pronosticate Sì ragazzi Sì Questa volta ci sarà Filippo Il sole Che chi lo prova Poi non lo lascia più Poi Eh no Sì no Spiegalo adesso Lalo Com'è che quali erano le opzioni da Modificare Ma che cosa doveva spiegare Non ho capito Era extra Poi le grafiche Il framerate Variabile da mettere sì Cioè Penso al giuramento variabile sì Come fare le cose Ok Le reverse Penso al giuramento variabile Ok Allora intanto Alline Lobby Ah già io sono ancora in quella di prima Era lobby Fatto al four wave Cambiamo però Cosa Extreme rules Dai Extreme rules Extreme rules Cambiamo arena Andiamo al cash of champions Fammi votare qui Un po' Solo votare Duke Entrata sì Vittoria sì C'è che 250k su mark Chi prendo Quando una persona vi prende Voi non dovete Riversare premendo y Ma premendo un tasto Tra b a o x Tipo sasso cartoforbici Ma non compare il tasto È un cambio fatto quest'anno Quindi devi andare a caso Fondamentalmente Però per le prese Tutti i tasti a caso Per le prese Vai a caso No ragazzi Ma che problema è Questo qui Che sai fare Si aprono Mi devi rinvitare Perché adesso dovrò uscire Il tasto y serve solo per pugni e calci Ok Sono uscito Adesso mi dovrà sincronizzare E l'orgio io Già andata bene Sei buono Allora Rinvitami intanto È un problema Perché Perché risulti già dentro Non ho mai accettato La metto pronto Ecco Vedo quando riaprire il gioco Quando smetto di laggare il suo vs Perché vuol dire che Si è chiuso ben bene Sì che poi tra l'altro Quando si chiude e riapri C'è un lag incredibile Eh aspetta La ricreo Ah no ok Posso Plinio No Luke Io non ce l'ho però Se no lo prendevo io Plinio Come faccio a picchiare Plinio Non posso picchiare Plinio Sono gran cazzacci tuoi Se mi permetti Eh lo dovevo scaricare Mannaggia Adesso fa caldo ragazzi Sono tutto un fuoco Come sono a 66 Ah ho accettato quello di Luke Tra l'altro Ma non posso picchiare Ma Adesso sei La persona che odio di più al mondo Anche avendo 100 Resiste al massimo 4 mosse finali Dove è Filippo Vai Siamo le zgoni eh Let's go Power Rangers Ragazzi ma io come faccio L'ha fatto apposta Luke Così non lo posso picchiare Non è giusto È come mettersi gli occhiali Durante una rissa È scorretto Grazie WP Grazie WP Gold Grazie Ma guarda che bello Ricordatevi di rinnovare le sub Tra l'altro questo mese Per i sub Per l'idea sub Facciamo un gioco Di anzianità di gomma Diciamo così Diciamo un po' così Sono anziani di gomma Effettivamente È una spiegazione giusta Sì Adesso un attimo di caricamento A parte che io sono Sottilissimo Sono tutti dei trattori Qua Quanto hai pagato Il Lego di un casco Qualsiasi di Star Wars Perché sono andato Dal Feltino E costava sui 60 euro Sì Il prezzo è quello Sì Gangbist Su Amazon di solito Scendono a 50 Ma tu non li hai montati tutti Non li ho montati neanche uno Dei caschi Devo li metti poi Per ora li ho scattolati Aspetto di avere Un posto dove mettere Perché Non ha senso Montarne due Poi altre poi sei no No domani Se mi gira Che bastardo Lorgio Non faresti mai Cosa di un genere Al contrario Sì sì no Il prezzo ufficiale È 60 euro Il pari caschi 70 Ti sei ripreso un po' Piero con questo franzo Sì Ho aggiunto qualcosina Nel 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 nostro negozio Aliezer Sei inguardabile Ce ne do una È fatta Però ha gli occhi rossi Che ha quel fascino Particolare Però gli hanno fatto Non si può fare Il naso lungo Fa un po' caccare L'editor Speriamo Jingle Bell Era tutto puntato Sul naso lungo Non si può mettere Speriamo nel gioco Di AIW Che sembra Terrificante Sì Che però Sembra terrificante Perché Chiaramente È fatto Con del budget Che non esiste Probabilmente Però magari È fatto bene Cioè È brutto Ma fatto bene Chissà Ma se salto Salto solo Questa No Mi passa alla prossima Sì Abbiamo fatto Quello del virus E del gattino Prima Poi abbiamo fatto No Guarda che tutto giallo E basta No A me si vede giusto Almeno E te perché L'hai selezionato tu Mi sa Vabbè Ma sono durissimo Vado Vado Tutto duro Tutto duro Pom 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 Non c'è qualcuno Che ha questa entrata Nella Davide E se le hanno usate Non c'era proprio di sé Magari ce ne sono Di extra Perché Come è terribile Franci Ma com'è che è schifo Ragazzi Ma cos'è questo dissing Non vinco Adesso Ma ringraziate Che non c'è la faccia Poi Infatti È il mio disegno Infermibile Che schifo Ma che è entrato Ma scusa Ma Plinio Sarà la stessa entrata Per forza Perché è l'entrata Di Plinio Questa Effettivamente Era più l'entrata Di Plinio Però vediamo Adesso sono curioso E secondo me Plinio Entra con l'entrata Di Mussolini Entra con una diva Tutto sensuale Che si struscia Posso saltare Posso provare a saltare No Se salti Non hai il fisico Per fare questo lavoro Secondo me Vediamo Caga Gli è comparsa la faccia Intanto Non si sa Eccolo Filippo Una faccia terrificante Filippo Comunque Io lo vedo giusto Filippo Però No però è terrificante Suo Però Ma l'ha chiamato Fila Oh Fila Che bello però L'hanno fatto Veramente Bello Che 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 Somiglia E' comunque un cadavere Moro Si sa Che sia Terrificante Vero Vero Questo E' l'elfo Di Viscera Era il cadavere Elfo di Viscera Che si trovava In giro Nel gioco E non ce l'ha voglia Non aveva troppa voglia Di giocare Di combattere Però Prepreparato Ragazzi Prepreparato Vedrete Vedrete Eccolo Plinio Ma è tutto bianco E' tutto bianco E' tutto bianco Plinio Ma non fare come Dei personaggi sbagliati Cos'è Cos'è Era una persona Supereroe Con un personaggio Sbagliato cosa Non lo so Vista la descrizione Che gli ha messo Ha tutte le mutande Nel sedere Avete visto Dietro E Moon Knight No Abbi pazienza Ton La parte per il bianco Non vedo Attenzione Opla Una fatica Terribile Ma gli sono strappati I pantaloni Mentre ha fatto così Eh salto Adesso posso saltare Siamo preparati No Ma subito a rompermi Coglioni me Vattinne Che schaffa Carca miseria Pardon Marco Che si fai cazzi fuori E' subito Picchiato Non volevo picchiare Plinio Stavo aspettando Proprio per non picchiare Non mi picchiare Vattane Plinio Non voglio picchiarti Sei caduto da su Che fai Cosa faccio Ti strappo la faccia Ahia Me l'hai schiacciata Me l'hai strappata Porca bestia Ahia Sono caduto Ma perché I pensi grassi Con un sensoriale Si grossissima La poteta Ma si Non è giusta questa cosa Ahia Ma che copino Di corsa Che c'entravo io Ahia Mi prendi in giro Dai Ahia Che mo sei Che mo sei Non capisco Plinio che fai Bravo scemo Ma sono già stordito Ma che pippa Succalo Ahia Ma da un più copino Sempre io nel mezzo Ma hai calpestato i piedi Tanto le punte Ricircolate Non mi fai niente Ah però sono stordito Guarda che lavoro Dietro il buco Che c'ho io Mettato proprio bene Non ho visto le bette Questa volta Tra l'altro E hanno detto che Hanno puntato Purtroppo ancora su di me Però non è sempre Natale Ragazzi Ahia Plinio Non si fanno Ste cose Plinio Non è sempre Natale Eh lo so È un peccato Ma qua che sguscia via È perché È di fatto di ghiaccio Vai Jezza Fate un giro Ce l'ha bisogno Di volare così tanto Plinio Ma sì Dai facciamo la pace Così impari Vai Io sono Olinio Ahia Aia Che fotte Le cementi No Plinio Lasciami stare Datene via Non ti voglio picchiare Un attimo che esco Voi Plinio Asterixio Ciao Liezzar Posso giocare? No Infatti Ficola La banana Aia Guarda te Allora ti meno Smanacciami la banana Adesso Che dici? Eh ma come si prende Quello È troppo grosso Moro Sì Uum Ahah Quanto sta tornando È troppo lontano È diventato Project Zomboid Aio Geronimo Ma perché l'hai buttata Liede Così Non volevo prendere quello Non volevo prendere Non si può Posso arrampicare Sul palo Non c'è il palo Basta Eeeh Aia E dammela qua Aia Con tutti i posti nella pancia Me lo devi dare Ma scusami Mi ti è posato attraverso Ma io non vedo niente Non sto vedendo nulla Peggio per te Qua c'ho da fare Oh scemi Ah che fatica ragazzi Te ne do una eh Guarda che te ne do una Vedi che Guarda che te la do Oh non ti avvicinare Vedi un po' Guarda che te Guarda che te Lo vedi questo Lo vedi tuo eh È tuo Guarda te Aaaaa No adesso non vedo Si alleano No basta con questo Grande culo Basta che Aia Morelli No Tieni ti do le botte Nella scella Ma non mi fai niente Non mi fai Aia Che è successo Aia Le palle Aia Sono stordito Adesso Che stordito Te ne do una eh Ma Gli è zaro Guarda che te ne do una Vieni Le mie palle Aio Eh va via Grazie Clarus Grazie Clarus Ma che si prendono gli agenti a terra Che non mi ricordo mai Il dorsale sinistro Aia Aia Dovrebbe essere qui Da qualche faccia Aia Plinio Io te dovremmo essere alleati Plinio Faccia di sesso Avanti Ehm Ma ne è un sacco di merda proprio Ma che fai L'hai stordito Lascia stare Plinio Jezar Lascia stare Plinio Ah te ne do eh Anche se lo avvicinate qui Sono alto come Marco Da qua su Cos'è su Filippo Cosa è su Filippo Apple Torno sul ring Il sole più bello del mondo Ragazzi Il sole Aia La Carrana La Carrà Tieni Aia La Carrà Aia Filippo Che fai Filippo Guarda che se mi alzo Mi nervosisco Dai alza sto pesce Allora Comunque quella cosa lì Delle mosse Non è vero un cacchio Non funziona nulla È tutto Completamente schermo Prima è comparso Per un momento In qualcosa Di sodomico Pippone Aia Come pippone Oh Come pippone Non vedo Non vedo Non vedo Ma dove sto andando Ah io sono inciampato Vado a te Vado nel ringhio Vado Ma poi perché sono senza vita Io ho menato tutti Più volte Sono l'unico senza vita Ho stato spaccato la faccia Con il grande Adesso Ma fino a mo Adesso ma fino a mo Ma non puoi fare questa cosa Che fai Non posso farlo Stai zitto Aia Perla Miseria Te l'ho scampatata Premendo a caso Perché giustamente Cosa faccio I baci Aia Non si esce più di qua Ragazzi Parkel Che succede Giazzar Tutto bene Scambelli Attimino che sono al bar Io moro Sto ordinando Ti guardo le spalle Marto Grazie Adesso provi qua Porca bestia Wheezing Sono sempre Caduto Come hai fatto A rotolare così Sei pazzo Sono fortissimo Aia Cacchio Siamo sdraiati in due Me ne vado Ma ritorno Lascia stare Plinio Aia Le mie palle Moro Cazzo Aio Nonna Papera Nonna Pinguaglio Ma c'è una basca Lì Una scala Ma Plinio Plinio Ma porco Giuda Plinio Aia L'avevo messa Vieni qua Plinio Adesso ti ci infilo pure lì Ah No Ah E vai Viglia Basta Sono al bar Adesso Ma che stronzo Blizzard Ehm 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 Quando ho consumato SmackDown vs Robe I tempi davvero Eh sì Quelli per la play dos Lasciami stare Lasciami stare Lasciami Mi ha tolto Mi ha tolto Cagote le gonadi Ragazzi Mi ha tolto Cagote le gonadi Ragazzi Guarda che è arrivato Pli Porca bestia Plinio Aia Palla Ehm Brino Scemo pezze Ma che è quella mazza Oh Ma non è vero che ero stordito Perché sei stordito Ero per terra Mi sei stordito da solo Ma Bellissimo La mossa della serie Direttamente Guarda che Ci prova Vai Vai Ma E' già passato Guarda quanto regge La vita lì Dagli altri Io l'ho consumata subito Eh Che cazzo Mi prende nel dietro Un bacio Eccomi qua Scusa Madonna Oh Porca miseria Un pallone di pane Eh No Marco Sei scemo Marco Pericolosissimo Stai fermo Marco Ma che sei pirla Aia Ma succede Che glice era Quello lì Non ho potuto vedere Quell'ulone Cadermi addosso Oh Mai sciolta Oh Mai pissing Ehm Che capriola Sul post No L'albe Ehm L'arbitro Volante Che paura Per un attimo Ha fatto delle movenze Ma non mi toccate I piedi Ma tutti a toccare me Ma levatevi dalle palle Basta E niente Caccamo Cacca Eh vabbè Ma basta Astordirsi Basta Da solo Poi Agio Ma io Voglio fare un'altra Ma perché non me la fa Eh 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 Ah Eh Ma poi mezz'ora Eh vasterro Ma 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 Se non è Quella non era una mossa Quindi mi ha dato con la X Ma io comunque ho premuto Y Non so Quindi non funziona Oh Ti ho tirato su Plinio Cosa hai fatto a calciare Quanto rallentato Quel cun Vabbè ma il mio non sta combattendo Il mio proprio non ce la fa più Non c'è vero Ma Ma C'è tutto posto ragazzi Cos'è successo Beh Un altro po' si distordisce di nuovo Il mio E io sto sempre qua Sei al bar Ma Prendimi da bere va Bado Dai Ralfiongici La bestia La bestia Ma guarda Il mio non fa più niente Nulla E battene No ragazzi Ma cos'è questa cosa Perché Primo B Qua non so cosa sia Ma era una contromossa Sì ma l'animazione Era tutta sbagliata Comunque Io non sto giocando Da più o meno Un quarto d'ora Comunque Eh Marco Benvenuto Ma per ogni cosa Perché mi prende queste cose Sali Ma cos'è Ma scusami Ma scusami ma La più pazienza Vieni qua un attimo Dai Ma perché sei suicidato Ma Marco Però fa più forza Ma non ho premuto niente Come ho fatto la contromossa Madonna Madonna Io ti giuro Non ho parole Non serve a nulla Ma basta Ma missa tutti Poi ma fa cacare Sto sole Guasta 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 Eh va bene Eh va bene Ma cosa è successo Ma scusami ma cosa succede Eh sì Ma Plinio è indistruttibile Comunque Fortissimo Cosa faccio Parlo alla breakdance Ma per te Cacchione Allora Ma io non ce la faccio più Eh vale Boh Io mamma mia Amici del grande wrestling Ma poi che mosse delle palle ha Nelle balle Eh via Un'altra mezz'oretta Eccoci qua Eh via Eh via Ma quanto ha il casco Dietro Non ne fai niente Eh 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 Non si sembra di essere Intentare a perdere un match Non si sembra di essere Intentare a perdere un carriera E questo place È Giuseppe Di E Riturando In La E Ci penso io Ha picchiato Plinio Adesso mi vendicherò L'ezza Mi dispiace Aia Eh Bangulo Eh E Vai U No Ma no Ma hai buttato via Miesa Mi sapeva lui Ma porca bestia No La Phantom Ma poi fa tutte queste robe Non mi interessa farle Tutte queste robe Eh ma sono le poste di bicho Probabilmente Dai Vabbè Fammi questa presa Che non so Voglio Mi fa male la manca Testa di cacchio Ti stavo difendendo Pirla Chi se ne frega Marco qui eh Guarda te Mastica Tua mamma C'aveva la pagina Ficflabile Succhio Tanto ho messo Mi stordisce di nuovo E via di nuovo Aspetta Marco Ecco Tieni Eccoti qua Eccoti qua Astio Una partita Che non va giocata Nel culo Mentre ero in aria Ma hai messo il pugno dentro Nella mazza di carne Sono stordito io Sulla sedia Sono caduto Cosa vuole questo qui Adesso Cosa vuole Ma porca bestia Nel naso Aia Cappellezza guarda Che derappa Ma guarda Ma che rumor C'è una mazza di plastica Cos'è La mazza del sex Quella lì Adesso penso io Guarda l'altra parte E' un po' solo di là Aspetta un attimo Aspetta un attimo Che adesso il ritorno stordito Aspetta Marco Ecco Molto gentile Ma sono stordito anch'io Ma scusa Ma non è possibile Per una sediata Astio Cioè Io che ti sto preparando E' la prima volta Che c'ho la caghetta Della Sì Marco Abbracciami Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Sì, le sottomissioni sono... Cioè, scusami, il 60%! E ci siamo! Ragazzi, è andata come è andata, purtroppamente. Cosa santa come un deficiente di merda. Ma poi cosa sta facendo questo scemo? Che dopo due pugni era morto, cosa sta facendo? Marco, la Juve sta perdendo, ma sì, se ne frega di quella squadra molle. Amici, mi sono molto divertito, ma devo andare a scaricarmi gli... Sì, io... Non ho giocato la seconda partita, a parte l'inizio, che stavo rompendo tutto, poi si è spento completamente. È stata una bella match, comunque. C'è da dire che non dovrebbe... Se quella impostazione funziona, la prossima volta dovrebbe essere un po' più fast, spero. Non esco io, esco dopo aver spento la live, comunque, ragazzi. Aspetta che mi vada a scaricare le cose. Ma, aspetta, era creazioni e... State imbarazzante sta vittoria, non ha fatto nulla. Non è vero, all'inizio stavo menato tutti. Ragazzi, chiudiamo il mio possibile, qui sta succedendo il patatrack, intanto... Lug? Ho ruttato e sei iniziato a impazzire come tutte le volte prima.